Io e io ero in scuola, in cui ho avventura, sono fissori, io facevo solo tecniche, io ne so che ho avuto tanto, ma studiamo anche anche il mio. Io sono in grande terra, una grande terra, che fa anche il tuo mio, cosa c'è io? Il mio è completamente diverso. Con questo esoterismo, durante il mio il mio ci piace di dire, poi ammalato come il mio sicuro, è un po' di troppa piatta, è un po' di un genere, però a certe cose mi piace. Non sono così, è così, è così facile. Una carrellata molto, molto, molto veloce di alcune delle opere del ricercatore indipendente Mirko Mariucci, che spero poi di avere sul canale prossimamente. Questa, ripeto, è soltanto una carrellata molto rapida, molto sommaria e parziale per quanto nutrita. Fra i vari titoli a me piace particolarmente sottolineare questo, come liberare l'umanità dalla schiavitù del denaro. Vedremo se sarà poi possibile parlarne meglio e più diffusamente sul canale. Grazie.